Non porto un Kastadale sul canale da un sacco di tempo, anche se in realtà il primo video, il primo e unico video che ho fatto su questo gioco risale al 9 maggio, l'ho controllato prima, del 2023, perché ho fatto il primo video di un Kastadale, ma l'ho mai pubblicato, perché boh, forse il mio tagge era molto elevato e mi seccava di tallo, guarda, sinceramente penso che sia molto plausibile. Allora, sto riportando, comunque lo sto portando per la prima volta a quanto pare sul canale, perché sto giocando ultimamente molto a questo gioco e ho detto, vabbè, facciamo un piccolo gameplay, tanto per portare un po' di contenuto sul canale, dato che lo sto lasciando morire, come sempre. Ho deciso di portare il Simulated Universe, anche se non sono molto forte, questo è il mondo 5, ok, perché mi servono delle cose per Silver Wolf. Allora, team che in realtà non c'entra proprio niente in questo mondo, perché non c'è nessuna debolezza all'elettro, dato che io ho come personaggio principale che fa danno a Kron, che in realtà sto buildando, quindi non è neanche troppo forte per ora, fa pochi danni. Oddio, pochi, aspetta un attimo che devo, qua non c'è debolezza all'elettro, a parte se non mi porto Silver Wolf. Vabbè, comunque, lei è fantasticissima, mi fa un sacco di cose, stupendo, ormai che l'ho presa, non so come ho vinto 50 su 50, credo, non lo so, però sono molto contento, quindi non mi interessa. Sto cominciando a buildarla, ho tornato molto avanti nella quest principale, quindi proprio gigissimo, ho finalmente sbloccato il dominio, diciamo, dove si prendono i suoi artefatti, ho farmato per un pochettino, le ho alzato pure qualche talento, mi manca l'arma, però non penso che la pullerò, perché, vabbè, cioè dai, voglio un po' troppo. Anzi, che già ho Silver Wolf al C1, E1, scusate. E non so come buildare Silver Wolf, quindi, boh, vedrò, perché lei era un pochettino quella più scassa del team. Diciamo che non è che sono tutti, non sono forti, penso che la più forte che io è Sele, o Sil, non so come, Sele la chiamo, che è stato il mio primo DPS che ho pullato. Ok, sempre detto, sono contentissimo, fichiamo un debuff. È stato il primo DPS che ho trovato, l'ho buildata abbastanza, no, abbastanza bene, è mediocre nella media, ecco, però è il più forte che io, perché io ho giocato l'anno scorso, e poi l'ho mollato, quindi, vabbè, ci ho ricominciato a giocare da poco, da pochissimo, non per hacker, non per qualcosa, ma perché, come base, in realtà, c'è sempre Genshin di mezzo, penso. Genshin che, comunque, porterò un altro video sul canale, ma più che altro per il meme, non perché ci stia giocando. Ma sai che cosa dovevi fare, invece, di accendere le luci? Già molto meglio. Per il meme, sì, ok, non lo so, in realtà, se ci sto giocando, perché Genshin mi annoia, quindi cose del genere, perché, vabbè, Genshin ormai non lo gioco più seriamente da un bel po' di tempo, penso da più di un anno, un anno e mezzo fa, ci ho giocato l'ultima volta seriamente, forse due anni, vabbè, ci devo stare. Comunque, ho ripreso a giocare a Hangai, sono felice della mia scelta, però, ovviamente, come obiettivo avevo quello di sbloccare 9 aree, ci sono riuscito, quindi, possibilmente, adesso è tutto a scendere, come voglia di giocare, è molto possibile, anzi, quasi sicuro. Però, intanto, mi godo quello che posso fare. Credo che cosa ti posso dire. Allora, qui ci metteremo un'eternità, ok? L'ultimo boss non riuscirò a farlo perché è impossibile, sono troppo scalso. No, è impossibile, zero. Se questa qui mi mettesse il fulmine invece che il suo schifo di elemento, sarebbe molto meglio se mi dai l'elettro. Grazie, ti odio, ammazzati. Comunque, abbiamo finito, comunque. Abbiamo finito, almeno quello, giusto? Non abbiamo finito ancora, va bene, ok? Lei è quella che mi fa freddo nei tutti, ovviamente, perché è l'attaccante. E, GG, mi porto... Allora, io qui, diciamo, ne scelgo molto a caso. Comunque, prendiamo questo, che è lo scopo di tutto. Quante... Ah, altre cinque, mamma mia, ancora. Vabbè, comunque, mi servono queste qua per silver wolf. Wolf, 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 wolf. Poi, vabbè, il fatto che Akron riesca a fare questa cosa di uccidere subito i personaggi nemici è qualcosa di bellissimo. Cioè, è stupendo, davvero. Certo, c'è un'alcuni nemici che non li scioglie, però... Ma perché? Perché andranno tutti io lo scudo? Cosa faccio io a shottarli? Boh? Vabbè, usiamo Akron, che mamma mia, fantastica, vabbè. Tipo, non gli faccio niente. Cosa... Dovei... Vabbè, boh, ok. Potrei metterli in automatico, però... Vabbè, no, non lo faccio solamente perché... Boh, rispetto per chi non lo so, in realtà. Che poi, vabbè, io non sono molto nell'ambiente di Hongkai. Cioè, o comunque, mi ci sono messo da poco. Di Starveld, vabbè. Di Starveld, ci ci sono messo da poco, essenzialmente. Anche se... L'anno scorso ero anche attivo. Cioè, ho fatto molto l'anno scorso, in realtà. Però, vabbè, ovviamente poi... Ho cominciato a lasciare stare, vabbè, come tutti i giochi alla fine, quindi, vabbè. Infatti, da una parte io penso, per me stesso, per questo canale, portare il gameplay è abbastanza stupido, perché tanto alla fine porto un gioco e poi non lo porto più. Che comunque è una cosa normale... Per carità, per carità. È una cosa super normale, questa... Che sto dicendo, che sto narrando. Però, cioè, già io che non ho costanza di fare i video normali. Pensa, potrei avere costanza nel portare un gioco per tutto quel tempo. Questo debba essere il secondo boss, questo ce lo dovrei fare, quindi, GG. No, c'è anche questo qua, il The Hunt. Frecce, frecce. Facciamo così, va? Così, ribaffiamo. Che poi tutti hanno uno scuro, o sbaglio? Sì, vabbè. Buono così. Danni belli, brutti, inimmaginabili, però comunque sempre un po' inadatti, dato che... Non c'è la debolezza elettro. Oh, ecco, grazie per l'elettro. Finalmente. Devo cercare di ricaricarmi quella... Ti prego, non mi uccide nessuno, per favore. Allora, stai un po' esagerando tu, comunque. Lui, devo bidarmi pure lui. Devo capire come sfruttarlo al meglio. Perché sì, so che ci vuole tanto attacco e cose del genere, bla bla. Però, davvero, solamente quello? Dai, facciamo così, guarda. Guarda che spavento che faccio adesso, mamma mia. Anzi, che spavento e che macello, perché è pazzesco. Davvero. Lui che dovrebbe bidarmi pure meglio, perché sembra un po'... Tutti devo bidarmi meglio. Tanne... Tanne sere, che vabbè, va bene così. Cioè, ce l'ho decente, me lo lascio decente per ora. Per ora, ovviamente. Poi... Perché molti condotti di gioco, io non riesco a farli. E quindi è un po' un problema. Ma... Tipo, c'era un evento, mi ricordo, con Kokoria, possibile? Che non riesco a fare, perché è troppo difficile. Poi, quante volte mi sono bloccato... Nel evento, negli eventi storie, anche nel... Talvezier Quest, non mi ricordo. Mamma mia. Quanto mi sono bloccato. Io mi sto portando, sia il guaritore, sia quello che mette lo scuro. Perché non riesco a superare... A superare gli eventi senza di loro. Mi serve tanta difesa, perché con l'attacco, guardate, 5700. Non faccio nulla. Allora, è una fase, che comunque capisco. Sono un po' scemo, ma vabbè, ormai. È una fase che comunque capisco. Non è sbagli... Oh, dai! Perché? Smettila! Allora, ti devo dire, finché mi è morta Silver Wolf, va bene. Ma basta, solamente lei? Non mi deve per niente morire, Akron. Altrimenti qua è un problema. Ti prego. Non uccidermela. Ok, lui va bene. Anzi, ripicchiamelo così, mi dà la special. Ah, piano piano ce la sto facendo. Dovei riuscire a farcela. Ehm, cosa... Ah, ok, mi fa l'attacco se faccio. Vabbè, ok, muori. 2000. Ma cosa significa 2000? Mi serve la R, per forza. La R. Ecco, ecco, subito, ti prego. Sbrigati, fammi... Grazie. Grazie. Finalmente. Facciamo questo, va bene. Tanto alla fine, dopo questo boss è finita. Quindi non ha senso continuare. Va bene, poi me ne riguardo dopo. Adesso non lo so. Boom. Qua, ecco, veramente inutile che io la affronti. Però... Per il meme si fa questo e altro. Bene. Ok, allora, vediamo. Allora, ci sono tre fasi, impossibile. Dove aggiungiamo l'elettro? Ti prego, grazie. Brava, bellissima. Qualcosa allora, capisci? Ho sbagliato, però, ormai. No, ho sbagliato, sono scemo. E vabbè, sono un idiota. Ci sta. Alla fine, sono proprio scemo, stupido. Ah, però di togliere lo scudo. Nonostante non sia debole all'elettro. Vabbè, io sto quittando. Perché, vabbè, basta così, non ce la faccio. Tanto perderei. Quindi anche a sprecare tempo e a farvi... Non voglio né spiegare tempo io, né farvi spiegare tempo a voi. Anche se non dubito che qualcuno sia riuscito a questo momento del video. Posso prendere anche l'ultima ricompensa e le altre ricompense che sono sempre gemme gratis. Non so come si chiamano in questo gioco. Un attimo vediamo i personaggi. Perché mi sto bidendo lei, non so nemmeno qual è la lightcon migliore per lei. Ho messo questa perché non ne ho altre. Ho questa, però, vabbè, no, grazie. Vabbè, i talenti mi mancano alcune cose perché ancora non è al livello massimo. E poi, come altri fatti, ho questi qua. Quelli raccomandati qua dicono HP, ok, c'è questo set, quindi GG. Non capisco in realtà il motivo di questo set consigliato. Ci sono 4% delle persone che lo usano. Mi sa che ci sono dei cretini che giocano a questo gioco. Ci sta. E poi, boh, c'è qua crit rate. Perché i crit damage un po' ho visto che sono boost anche nei talenti. Ma non ne ho di crit rate. Anzi, ne avevo uno, però tre stelle, che l'avevo già mangiato. Infatti, esattamente, ci ho crit damage. Intanto le metto queste e basta. E poi qua attimo attacco, anche se in realtà dovrebbe aumentare molto di velocità perché non spunta mai. Ma vabbè. Ma quello che interessava a me era lei. Perché c'ho... Sì, queste cose. Qua effective rate ce l'ho. E qua speed che ce l'ho. Non capisco cosa devo fare con lei. Penso che mi guarderò un video tutorial, ma va bene. E basta. Vabbè, poi il set è quella che... Sì, set, sì. È quella che ho più forte perché al massimo qui 53, 139. Non è incredibile, ma è qualcosa. Per me è tantissimo. Quest'arma che non mi ricordo nemmeno poi l'ho presa. Qua tutti i talenti che ho... Oh, quasi tutti i talenti tranne questo. Gli artefatti... Come sono allora? Qua crit rate, crit rate. Con crit damage 24. Questo pezzo è molto buono. Anche se con la difesa lo lasciamo stare. Qua è attacco. Vabbè, sì, è carino. Direi che basta così tranquillamente. Sono contento di avervi fatto vedere un attimo se è questo video che abbiamo mai pubblicato come il primo, esattamente. Che è rimasto nella mia cartella a marcire per più di un anno. Forse lo editerò... Non lo lascio là perché comunque non ricordo. E' abbastanza carino. Vedrò. Quindi, questo io è tutto. Speriamo che vada tutto per il meglio. Una buona notte e sogni d'oro.